tempo fa hai fatto una filippica diciamo sui film dc versus i film marvel dopo the batman è cambiato qualcosa ma per me the batman è orribile da dire ma è una lunghissima puntata di sia sai con un in costume che va bene a me piace sia sai però è un po così quindi però ci sono dei in realtà suicide squad mia e anche la serie peacemaker su due cose su cui riconosco una superiorità del mondo di sì a proposito di serie tu adesso sei anche un creatore di serie ma rimani un fruitore che tipo di spettatore sei da binge watching colpulsivo o preferisce l'appuntamento settimanale a settimanale è un po tanto per me però io sarei per io ho divido le serie in tre fasce cioè delle cose brutte che guardo magari mentre lavoro a ritmo di dieci puntate al giorno delle cose un po meglio che guardo magari una puntata al giorno mentre pranzo e delle cose che mi piacciono molto che mi guardo una puntata sera prima di dormire questa sarebbe la mia diciamo organizzazione ideale a proposito di piattaforma e sala che ne pensi di questa diatriba in corso cioè secondo te qual è il futuro? Ho letto Sorrentino che in intervista ha detto che non torna a fare film sulle piattaforme perché non si riescono a fare delle cose grandi fuori dalla sala in realtà sono abbastanza d'accordo nel senso che penso che l'esperienza della sala effettivamente trasforma un prodotto cioè fa fare un salto di livello al prodotto quando si parla dei cinema poi per me le piattaforme cioè io sono un guardatore delle serie quindi per me le piattaforme hanno un ruolo fondamentale nella mia esistenza però i film io effettivamente se non li guardo in sala a casa mia fatico pure a tenere la concentrazione per tre ore. E a proposito di fruitori di serie hai una serie recente che ti sei proprio fissato che consiglieresti a tutti è una tua serie del cuore? Scissione è la serie che in questo momento mi ha proprio fatto esplodere il cervello e la mia serie del cuore boh forse the shield the shield the wire lost. Secondo te l'animazione è il futuro perché permette paradossalmente di raccontare qualsiasi storia qualsiasi tipo di storia? Sì non so se è il futuro però sicuramente è una cosa ma io penso che in un sacco di posti è anche il presente già adesso in Italia sicuramente abbiamo faticato un pochetto di più a fare animazione per adulti principalmente perché chi ci metteva i soldi pensava che i soldi rientravano soltanto con l'animazione per bambini se questa roba si va scardinando pian piano in parte l'ha fatto rack nel tempo in parte l'hanno fatto anche altri secondo me è qualcosa che avre un sacco di scenari in più. Sei qui a Cartoons on the Bay per strappare lungo i bordi che verrà premiata per movimenti con movimenti production e non posso non chiederti un'ultima domanda su la prossima serie che è stata annunciata che non sarà un altro capitolo non c'entrerà nulla con strappare lungo i bordi volevo capire se ci puoi anticipare qualcosa se sarà una storia completamente nuova se farà sempre parte del tuo universo se ci possiamo aspettare uno zero calcare cinematic universe. Allora eh sì l'idea è di funzionare un po' come i libri nel senso quindi che ogni storia sia una storia a sé quindi l'universo è condiviso in qualche modo però non è il seguito di è proprio una cosa a parte. C'errà delle differenze pure formali nel senso che c'è un formato più lungo più da serie classica puntate più vicino alla mezz'ora che al quarto d'ora eccetera e poi boh non lo so per parlare dei cinematic universe vorrebbe dire che sta roba va avanti pure dopo magari invece questa è la debacca totale e quindi finisce là non si può dire.